Una vera e propria mattanza, un raptus violento arrivato al culmine dell'ennesima lite familiare. Con molta probabilità una contesa sulla spartizione dei terreni agricoli e sull'utilizzo di un pozzo per l'irrigazione dei campi sarebbe alla base della tragedia che si è consumata questa mattina in contrada Safarello a Licata, dove un uomo di 48 anni, Angelo Tardino, ha ucciso a colpi di pistola il fratello, la cognata e i figli della coppia di 11 e 15 anni. L'uomo poi è fuggito e ha tentato il suicidio mentre era al telefono con i carabinieri che lo avevano rintracciato e stavano cercando di convincerlo a costituirsi. Adesso ricoverato presso il reparto di rianimazione del Sant'Elia in condizioni gravissime, tanto che sarebbe già stata dichiarata la morte cerebrale. Teatro della terribile mattanza, l'abitazione di Diego Tardino, fratello del killer, dove questa mattina intorno alle 8 sarebbe arrivato Angelo. In casa con Diego c'erano Alexandra, la moglie, e i due figli della coppia, Vincenzo, di 15 anni, e la piccola di casa, Alessia, di soli 11 anni. I due fratelli gestivano insieme un'azienda agricola. Da tempo però i rapporti tra Angelo e Diego si erano deteriorati. Tutta colpa, raccontano i vicini, di quel terreno coltivato a carciofi che si trova in via Riesi, estrema periferia di Licata. Una lite probabilmente causata da dissidi economici, probabilmente legati agli appezzamenti di terreno che ci sono qui alle mie spalle. Una lite che andava avanti da tempo e che oggi purtroppo è sfoggiata nel sangue. Diego, che secondo quanto racconta chi lo conosceva, era in possesso di un fucile da caccia di alcune pistole regolarmente detenute, stamattina si è presentato armato a casa del fratello e al culmine dell'ennesima lite avrebbe estratto l'arma e avrebbe fatto fuoco, uccidendo sul colpo l'intero nucleo familiare. Poi si sarebbe dato alla fuga, ma avrebbe avvertito la moglie di ciò che aveva fatto. È stata lei a chiamare i carabinieri e a fornire il numero di cellulare del marito. Dopo aver ucciso il fratello, la cognata e i due nipoti di 11 e 15 anni, il 48enne è fuggito via. È stato raggiunto però telefonicamente dai carabinieri che hanno immediatamente individuato la sua identità. Hanno parlato a lungo per convincerlo a costituirsi, ma proprio mentre era a telefono con i carabinieri, il killer ha deciso di suicidarsi, sparandosi un colpo di pistola alla testa. L'uomo però non è riuscito a togliersi la vita. Gli uomini dell'arma lo hanno ritrovato agonizzante in una via del centro storico licatese. Tardino è stato caricato in gravissime condizioni su un elicottero del 118 che lo ha trasportato d'urgenza al Santelio di Caltanissetta, dove adesso lotta tra la vita e la morte. Non ce l'ha fatta purtroppo nessuna delle sue vittime. La scena che i carabinieri si sono ritrovati al loro arrivo nella villetta di via Riesi è stata agghiacciante. I colpi, sparati dal killer, non hanno lasciato scampo a nessuno di loro. Sotto sciocchi vicini di casa, svegliati stamattina prima dalle urla e poi dagli spari. In molti sottovoce raccontano di un clima teso da tempo, colliti all'ordine del giorno, ma nulla che facesse presagire un epilogo così drammatico. Sul luogo della strage l'APM Paola Vetro, l'unità scientifica dei carabinieri e il medico legale. La procura della Repubblica di Agrigento sta coordinando le indagini. Intorno alle 13 poi il cuore del killer ha ceduto. Troppo gravi le ferite alla testa e i medici della rianimazione del Santelia non hanno potuto fare altro che decretarne il decesso. Salgono così a 5 le vittime della mattanza di questa mattina.